Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto GPS per Moto Alter Rain 4.3. Punti caldi. Moto Sistema di navigazione GPS 4,3 pollici 2x screen 4 GB di memoria interna impermeabile IPX7 Valutazione connettività Bluetolp specifiche generali Versione SO, Winch 6.0 CPU, Nezitec MT3351 RAM 128 MB Bluetolp valutazione impermeabile IPX7 Altoparlanti alimentazione, batteria ricaricabile li polimeri di litio Caricabatteria da auto o automoto di potenza della batteria della batteria dimensione 950 m a tempo di utilizzo, da 2 a 3 ore lingue, inglese, portoglese, spagnolo, francese GPS e frequenza 486 MHz canali di segnale 22, tempo start-up caldo 2 secondi tempo start-up caldo 32 secondi tempo di avvio a freddo, voice 35 secondi 120 dB modulo GPS Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazon IT Clicca sul link nella descrizione sottostante Grazie per la visione